ok allora vediamo un po di recuperare il nostro amico fabbro che è nella zona nuova, praticamente dove non eravamo riusciti ah eccolo qua Renzi, lo hanno rapito le rane? eh si hanno rapito le rane però io con il mio vestiario non vado mica d'accordo perché vediamo perché ho un vestiario che è pro dicevo è pro larve e contro l'ane quindi adesso vediamo sto zichino giusto vedete che questo vestito qui è solo la resistenza alle larve quindi lo devo cambiare devo mettere ma perché in rosso resistenza alle larve? no c'era uno che era resistente a... ah è resistenza alle rane questo e questo è alle... alle larve è il verde da guardare e basta salviamo e andiamo e andiamo e andiamo di qua siamo siamo giusti sì o dovevo scendere? ah di qua si va da un'altra parte no siamo ben giusti dobbiamo salire quindi si siamo giusti non si fa tanto danno però questa... questa lancia eh perché se ci sono zone dove c'è sia le larve che le rane è diventa un po' è diventa un po' ma noi e abbiamo finito che cosa accadde qua? ah di qua... ah no, ma si va dall'altra parte ancora come ho detto come ho detto questo era quello che era a guardia dell'anziano allora dove, dove si va? dobbiamo salire salire, andiamo a stare dentro qua serve la classica chiave, ok ah, ha una mano equipaggiamola, vediamo come andiamo ah, ma ci aveva lui la chiave ok, ottimo c'è il fabbro eh, il fabbro dov'è? chiede vedete cosa ci dice ok, fin qua ci siamo arrivati oh, la torre i perfidi del pantano ah, quello che abbiamo preso i perfidi del pantano i perfidi del pantano ah, che bel foccherello qua equipaggio ovviamente ah, il tasto destro il tasto sinistro il tasto sinistro ah, l'arma è normale ok un'arma a due mani ah, quindi con questa è l'ascia con questo è e qua, vabbè qua siamo a posto questa l'ho appena messa è un'ascia che è abbastanza potente mi sembra a una mano a due mani a distanza ok è pesa un po' ma vabbè no, forse però essendo armi simili forse mi conviene prendere in arancia a tornare suonare a tornare suonare il paese l'armi a tornare suonare l'armi con questa ora Ok. la tana del ranger allora direi che si deve andare qua si adesso facciamo il posto c'è picchia ma la faccia è demolito tutto possiamo passare all'arma normale adesso ok però qua è e quelli? la battuglia l'ultimo chi è? qui c'è qualcosa un'altra ascia noi mettiamola via ne abbiamo usato una ah c'è un passaggio sotto eeeh bello statua antica sembra del raccolto bello ha scoperto un luogo nascosto eeeh anche molto bene è scoperto che semmasino avete lavorato qui c'è un'altra ascia non ne ho vuoi salire su ah 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 quatti quatti stai ci sono qua a a Grazie a tutti. E questo sono curioso di sapere come fare. Grazie a tutti. 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 Ci si vede alla prossima. Ciao.